L'attesa della tifoseria è rivolta all'innesto di un ulteriore elemento senior per il reparto avanzato. Sono sempre vive le trattative impostate dal direttore sportivo Massimo Martelli con Giuseppe Bozzi, Pierpaolo Disenso e Massimo Ganci. Nel frattempo però il team Altamura aggiunge anche sei pedine al proprio reparto Juniores, mettendo a disposizione del neotecnico Claudio De Luca, Francesco Vaccaro, esterno sinistro 99 proveniente dalla primavera del Bari ed ex potenza, Alessandro Catalano, centrocampista 2000 in prestito della Virtus Francavilla, l'argentino González Andrada, terzino destro 99 nella passata stagione all'Atletico Vieste in eccellenza, Riccardo Selti, esterno Mancino 98 del Corato, Marco Calvani, difensore centrale 99 che ha vinto la promozione a Terrizzi e Giuseppe Carramura, esterno destro 99 in prestito dalla Salernitana. Aggiunge due giovani all'organico anche il Nardò, il centrocampista esterno senegalese SNE classe 2000 della Virtus Francavilla e il mediano Simone Bolognesi del 99, quest'ultimo confermato. Ieri intanto primo allenamento con la formazione allenata dal riconfermato Roberto Taurino per l'argentino Hernan Molinari, campionato di eccellenza ufficiale della proda Barletta di Giuseppe Negro, esterno offensivo che nella seconda parte della passata stagione Corato ha messo a segno sette reti in 15 presenze. Si aggiunge nel reparto avanzato ad Alfredo Varsi e ai precedenti inesti di Alessandro Sansona tra i pali e della difensore centrale Daniele Bruno. Novità anche per il parco Juniores Biancorosso con l'ingaggio di Davide Lamacchia, altro esterno d'attacco ex Cerignola lo scorso anno in promozione con il Real City. Attivo sempre il Molfetta Calcio e ufficiale l'arrivo di Lorenzo Legari, centrocampista ex Gallipoli, farà coppia in mezzo al campo con un altro volto nuovo Damiano Partipilo, ufficializzato dal Corato l'ingaggio di Pasquale Trotta in attacco, altro elemento di spessore per la categoria che la società mette a disposizione del tecnico Vito Castelletti. È fatta per Francesco Cantatore al Corato, a cui piace anche Andrea Presicce, il brindi si prende in attacco proprio dai salentini Antonio Pignataro. La vetrana, infine, che si chiamerà alto salento nel prossimo campionato di eccellenza, conferma uno dei grandi protagonisti della passata stagione, il trequartista Emanuele Capellini.